In Italia una donna ogni tre giorni è vittima di femminicidio, viene uccisa per mano del compagno, del marito o di un familiare proprio perché donna. Nella giornata internazionale contro la violenza di genere sarò a San Severo in provincia di Foggia insieme agli studenti dell'istituto Palmieri San Giovanni Bosco per ricordare Roberta Perillo. Roberta Perillo, 32 anni di San Severo ha un fidanzato da due mesi che si chiama Francesco D'Angelo. Di fronte ai ripetuti comportamenti aggressivi di lui decide di lasciarlo. Il ragazzo non ci sta, le tiene un ultimo appuntamento, si reca a casa di Roberta, ha un diverbio con lei, le mette le mani al collo fino a farle perdere i sensi, poi la nega nella vasca da bagno. Infine va a costituirsi insieme al padre alla questura di Foggia. Dirà che il suo è stato un blackout, che ha avuto un raptus. È la solita scusa che dicono gli uomini quando uccidono le loro compagne. Francesco D'Angelo sarà condannato in primo grado a 23 anni e 8 mesi. Roberta Perillo non c'è più. Oggi a San Severo la ricorderemo insieme ai genitori, insieme al suo avvocato difensore e cercheremo di capire che cosa scatta nella testa di un uomo quando vuole uccidere una donna. Cercheremo di capirlo insieme agli studenti e alle studentesse.